un pensiero ai miei amici fonici quelli che si occupano del suono nello spettacolo che sono dei tecnici in genere molto raffinati il cui lavoro viene a volte sottovalutato non basta avere una grande preparazione per fare quel mestiere ma c'è bisogno anche e soprattutto di sensibilità ovviamente di orecchio e soprattutto di tanto coraggio proporre infatti al regista dello spettacolo soluzioni acustiche innovative fa parte solo del bagaglio culturale dei grandi gestori del suono dei grandi tecnici del suono una curiosità che non tutti conoscono il pubblico deve sapere che al fonico preparato si chiede di immaginare la sala piena di gente al momento di tarare le attrezzature microfoni, casse, console eccetera una platea piena infatti piena di pubblico assorbe i riverberi, toglie l'ego e rende soffice il suono percepito una situazione che va simulata avendo una platea completamente vuota naturalmente in fase di preparazione cioè prima dell'ingresso del pubblico dove riverberi e rimbombi ovviamente la fanno da padrone ma come si capirà quella di immaginare centinaia a volte anche migliaia di spettatori seduti è una qualità che si perfeziona solo con il tempo con molto tempo e con l'esercizio e non tutti riescono a farne un'arte pensate che anche l'abbigliamento degli spettatori influisce sull'assorbimento del suono quindi in estate quando si indossa solo una camicetta sarà diverso dall'inverno che impone maglioni pesanti e morbidi insomma quindi viva i fonici bravi del teatro italiano che è il teatro migliore di tutti